E' un settore che è conosciuto da parecchio tempo ma che sta vivendo una nuova giovinezza legata anche al fatto che nuovi disposti legislativi stanno incentivando le tecnologie sia pompe di calore sia impianti solari termici. Il senso di questo convegno è quindi quello di cercare di stimolare un po' gli operatori e far capire che è un settore su cui si può investire e da cui si può trarre sicuramente vantaggio in termini di efficienza energetica, in termini anche di ritorno di spese di investimento quindi di diminuzione della propria bolletta di casa se vogliamo. Di conseguenza quello che si è voluto fare è proprio far vedere quali sono soluzioni tecnologiche ma anche illustrare e formare il pubblico e gli spettatori su tutte le novità che come dicevo prima sono abbastanza recenti, poco conosciute e hanno bisogno appunto di essere diffuse per far crescere nuovamente il settore. Di pompe di calore se ne parla da tempo, quello che mancavano erano degli incentivi sicuramente mirati al settore, si è parlato per tanto tempo di incentivi focalizzati solo sul solare fotovoltaico, adesso il sistema sta cambiando un po', quindi sicuramente noi ci aspettiamo che sempre più queste soluzioni intervengano a livello di singole utenze domestiche perché viene loro incontro anche la auspicabile minor richiesta di energia dalle singole abitazioni e quindi soluzioni come queste che un tempo erano viste solo per la mezza stagione possono presentare delle potenzialità significative nel futuro.